Italiangia, başlandeci seviyesi yedi. Lütfen yormayın ve beğenmeyi unutmayın. Si prega di non dimenticare di iscriversi e come il video. Geçen kış soğuk ve korkunçtu. L'inverno scorso era freddo e terribile. L'inverno scorso era freddo e terribile. Ağacın üzerinde kırık bir dalmardı. C'era un ramo spezzato sull'albero. Üzgünüm ama banca kapalı. Mi dispiace, ma la banca è chiusa. Mi dispiace, ma la banca è chiusa. İki arkadaşım da işte idi. I miei due amici erano entrambi al lavoro. I miei due amici erano entrambi al lavoro. Bu ne biçim bir kitap? Che tipo di libro è questo? Che tipo di libro è questo? Bu ne biçim bir kitap? C'è un buon ristorante dall'altra parte della strada. C'è un buon ristorante dall'altra parte della strada. I miei piedi sono insieme. Le mie mani sono a parte. La sua mano destra è alzata. Sol ele è aşağıda. La sua mano sinistra è giù. La sua mano sinistra è giù. Tu devi essere qui prima delle 8 di domani mattina. Devi essere qui prima delle 8 di domani mattina. Quando è l'inizio della scuola in Francia? Quando è l'inizio della scuola in Francia? L'inizio della scuola è alla fine dell'estate, a settembre. Okulun sonu ne zaman? Quando finisce la scuola? Quando finisce la scuola? Okulun sonu Haziran ayında, bahar'ın sonundadır. La fine della scuola è alla fine della primavera, a giugno. La fine della scuola è alla fine della primavera, a giugno. L'inizio della scuola è la scuola in Francia? L'inizio della scuola in Francia? L'inizio della scuola in Francia è alla fine della scuola in Francia. Dairen nerede? Dove è il tuo appartamento? Lincoln Caddesi'nin sonunda. È alla fine di Lincoln Street. È alla fine di Lincoln Street. C'è un libro aperto sul lungo tavolo marrone. Mi dispiace, ma il negozio di scarpe non è aperto prima delle 9 in punto. Mi dispiace, ma il negozio di scarpe non è aperto prima delle 9 in punto. Teatro ne zaman açık olacak? A che ora sarà aperto il teatro? A che ora sarà aperto il teatro? Sia gli occhi che le orecchie dei bambini sono aperti. Sia gli occhi che le orecchie dei bambini sono aperti. Sei fortunato perché ci sono ancora due posti aperti nella nostra classe. Sei fortunato perché ci sono ancora due posti aperti nella nostra classe. Perché la banca è stata chiusa prima delle 4. Perché la banca è stata chiusa prima delle 4. Università ha stanno seggellere capo di il dir. Dove dirmi? L'ospedale universitario non è chiuso di notte. Destra. L'ospedale universitario non è chiuso di notte. Destra. Perme e sarci cicekler ha la capalı. I fiori rosa e gialli sono ancora chiusi. I fiori rosa e gialli sono ancora chiusi. Ezzane önümüzdeki pazar capano olacak. Haklu miyim? La farmacia sarà chiusa domenica prossima. Ho ragione. La farmacia sarà chiusa domenica prossima. Ho ragione. Japonia 1854 ten önce capalı bir milletti. Il Giappone era una nazione chiusa prima del 1854. Il Giappone era una nazione chiusa prima del 1854. Bukerukta al gianlodi. Questo ramo spezzato non vive. Questo ramo spezzato non vive. Üzerinde halakam spiriaprakio. Non c'è ancora una foglia su di esso. Non c'è ancora una foglia su di esso. Perché ci sono ancora molte foglie morte su questo melo vivente? Perché ci sono ancora molte foglie morte su questo melo vivente? Lo spagnolo è una lingua vivente importante, ma il latino è una lingua morta. Lo spagnolo è una lingua vivente importante, ma il latino è una lingua morta. Büyük babam öldü, ama büyük annem hala yaşıyor. Mio nonno è morto, ma mia nonna vive ancora. Mio nonno è morto, ma mia nonna vive ancora. Insanlar hala bu karanlık, eski bina da, susuz mu yaşıyor? La gente vive ancora in quel vecchio edificio buio, senza acqua. La gente vive ancora in quel vecchio edificio buio, senza acqua. Era un film meraviglioso perché era nel colore vivente. Era un film meraviglioso perché era nel colore vivente. Beraber yaşadıkları zaman molto mutluyordu. Yoksa enolio mi? Era molto felice quando vivevano insieme. O mi sbaglio. Nerede edin? Parti sensiz ölüdü. Dove eri? La festa era morta senza di te. Dove eri? La festa era morta senza di te. Neden bu iki telefonda ölü? Perché entrambi questi telefoni sono morti? Perché entrambi questi telefoni sono morti? Ilginc. Saat sekizden sonra share in bu kısma ölü. E' interessante notare che dopo le otto, questa parte della città è morta. E' interessante notare che dopo le otto, questa parte della città è morta. Neden o burda? Perché è qui? Perché è qui? Para si cimburda. E' qui per i suoi soldi. E' qui per i suoi soldi. Onlar neden orada? Perché sono lì? Perché sono lì? I' qui c'è un ora dollar. Sono lì per lavoro. Sono lì per lavoro. Neden Londra dieden? Perché eri a Londra? Perché eri a Londra? E' qui per il mio giorno di riposo? Ero lì per alcuni giorni di riposo. Perché quel ragazzino sull'albero? Perché quel ragazzino sull'albero? Era sull'albero per le mele, mele grandi e fresche. Era sull'albero per le mele, mele grandi e fresche. Per chi sono questi bellissimi fiori rossi? Per chi sono questi bellissimi fiori rossi? Sono per la mia ragazza.